No, due anni fa questo contratto ho detto forse sarà l'ultimo, però non mi sentivo pronto a smettere e quindi ho pensato di che avrei deciso durante gli anni, durante questi due anni. Poi sinceramente non ho avuto tanti dubbi, anche perché ho avuto un grandissimo supporto dalla Yamaha che a novembre mi ha detto fai quello che vuoi, basta che ce lo dici quando hai deciso, però se vuoi continuare noi ci siamo. Quindi questo mi ha già dato, mi ha dato ancora tanta fiducia. Poi ho detto aspetto l'inverno, aspetto i test che di solito è la parte della stagione un pochino più doiosa. A marzo però dopo l'ultimo test mi sentivo in forno, quindi ho detto va bene. Senti Valentino, nella tua scelta di queste tre cose qual è l'attesa di più? Il fatto che ti diverti ancora, il fatto che stai bene, sei in forno fisicamente oppure magari la voglia, l'obiettivo di raggiungere il 10? Ma tutti e tre, tutti e tre uguali, soprattutto le motivazioni, la motivazione, il gusto di fare comunque, di guidare la moto, di lavorare col mio team, di fare questo tipo di vita che mi piace e quindi di cercare di continuare. Il nostro primo obiettivo è cercare di far tornare a vincere la Yamaha. Secondo me la situazione è piuttosto chiara, nel senso che ci sono delle aree dove dobbiamo lavorare e quindi speriamo di fare presto.